Allora, il solito respiro profondo, mi dice Galas, perché così posso parlare meglio, mi ha dato già da bere l'acqua, l'ho già bevuta, il signor Parisi con gli occhiali sta prendendo appunti, la situazione è calma, possiamo parlare dei giovani, io sarei positivo. Allora, Aldo Grasso del Corriere della Sera, alcuni di voi penso che abbia letto qualche articolo, se non l'ho letto ve lo dico io, è un giornalista, ha scritto un libro del rapporto tra lui e i suoi figli. Ecco, io sono, com'è che posso dire, non sono così contrario a tutto il sistema che c'è. Allora tutti i giovani chi, i giovani là, i giovani chi, ecco il telefonino, noi guarda che l'internet, noi guarda che dei chi, noi guarda che dei là. È vero, è vero, è vero. Però io mi domando, Carlo Tamanini, che rapporto ha avuto? Io guardate, allora apro il telefonino, vado via internet, mando le mail, stampo quello che c'è da stampare, ma trovo che sia, dal punto di vista informativo, internet è stata una scoperta incredibile. Allora dice Grasso che la musica non è più ascoltata, che il cinema, insomma se i film sono troppo lunghi non vanno a vederli, che i concerti non vanno, eccetera, che tutti si sono chiusi in questo smartphone. Ditemi cos'è questo smartphone, i telefonini, si chiama lo smartphone, il telefonino, da cosa deriva? Phone? Smart cos'è lo? A smartphone, cioè un piccolo telefono, piccolo telefono. E questi giovani, sì è vero, perché l'altro giorno sono andato a pranzo a Trento con degli amici, siamo andati all'uno sul grigio, che ho toccato il microfono, immaginando, ho visto il segno, cari, ah ah, mi ha fatto il segno, come per toccare il microfono, non lo tocco. Allora sono andato e siamo andati all'orso grigio a pranzo, con cui dire, amici, sono arrivati al tavolo vicino, quattro signori di una certa età e poi gli hanno raggiunto i due ragazzi, che certamente erano i loro figli, certamente erano i loro figli. Bene, durante tutto il pranzo, beh adesso vi faccio vedere, perché guarda, chi col telefonino mi scarsella, qua. Allora, piatto con la minestra e popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop è stato Bocom, smartphone, Bocom, smartphone, madre, smartphone, telefonino, madre, padre, sì, oh, tutto sintetizzato, alla madre sì, no, e il mangiare, mi lo so, non so neanche cosa chi ha mangiato, io sono convinto che se gli domanda cosa hai mangiato non lo sa, ma cosa hai trasmesso sì, ecco qui siamo all'esagerazione, ecco questo può darsi che questo signore abbia ragione, però non possiamo arrenderci alla tecnologia, perché ogni periodo ha avuto la sua storia, che risuono i contadini quando gli dici che ogni illustro ha il suo gusto, ve l'avevo detto anche in latino mi pare, ve l'ho detto in latino, se l'ho detto o ve lo ripeto, tempora mutantur et nos mutamus in illis, tempora mutantur i tempi cambiano et nos e noi mutamus in illis e noi mutiamo in essi, cioè tutta la storia è stata così, certo che se pensate da Gesù Cristo in avanti non ci sono stati dei cambiamenti a direzione della ruota e della polvere da sparo, non mi risulta che ci sia stati dei cambiamenti tecnologici o sbaglio, come ci sono stati in quest'ultimo periodo, perché io vengo da un mondo, credo di averlo già detto, ma ve lo ripeto, per cui il riscaldamento era fatto con la cucina economica e non è che stessimo poi così male, ma era il riscaldamento, c'era ma qualche famiglia insomma in generale non c'era, poi la radio a modulazione della frequenza è venuta dopo, c'era, le onde medie che la neva, le veniva, le neva, le veniva sempre là a regolare l'onda perché ti perdi l'onda eccetera, poi i gabinetti, ci si lavava a province, a province, in cucina, con quelle, con quelle, come se c'è a me, con le mastelle, nella mastella, prima i piedi, a volte le gambe, poi le parti basse e poi se te l'aveva nel torace a seconda delle esigenze che c'erano e quindi la pulizia è una cosa relativa, il riscaldamento, a me mi ricordo benissimo, ci si spogliava in cucina e poi ci preparava prima nel letto la monega, qualche volta se metteva anche le brase, se bruiseva anche il letto, magari ma non in modo, o con l'acqua calda oppure c'era anche la monega che aveva a fare con dentro le braccia, quelli lo usava meno per la verità perché era più pericolo, ma che era anche quella, ci si spogliava e poi prrrrf nel corso del letto, porca Eva, perché se te te fermevi in camera te restivi in giaccia come merlo, questo era il sistema, l'inverno io ho dormito con una camera a un grado sotto zero e potrei che non credi che è un grado sotto zero che era la camera mia, col piumino tutto l'avevo fatto, adesso è cambiato tutto, ma è un male o è un bene? In certe cose sarà anche un male perché forse la musica ha cambiato gusto, non si ascolta forse più la musica classica, non so dirvi, però io sono rimasto stupefatto ad Arco quando ho visto che la figlia del dottor Fonti, la Romina, ha fatto il concerto lì nel centro di Arco ed è stato un concerto di 18 anni, tutto a memoria, tutto a memoria ragazzi, perché è stata una cosa stupefacente. Quell'altro è il Trenti che è il Venimo e parla delle galassie che insomma arriva a casa e dice esisterà Gesù o non esisterà? E mi fa venire i dubbi religiosi di una preparazione, una cosa titolare della cattedra di astrologia all'università di Melbourne, otto mesi a Tokyo, fa parte dei tre che sta studiando il telescopio da mettere nello spazio, da sostituire, sono delle menti incredibili e sono giovani. Forse non sono motivati, ecco questo non… perché quando sei nella miseria allora è facile essere stimolati a migliorare, a fare, andare. Oggi forse c'è uno stato di benessere diffuso per cui forse ci si adagia, però io vedo… guardi, l'altro giorno ho parlato con una mia amica e tua figlia dove è? È a Londra. Ah ma cosa fa? È a Pechino, è là con una compagnia di telefoni che sta studiando. Quell'altro è in America, ma dice ma non potreste essere anche in Italia, torneranno anche in Italia, non dico di no, però sono giovani che non sono cretini, è gente intelligente, che gala smartphone, vivono solo di smartphone? No. Io credo che si generalizza, si generalizza. Certo che per il sottoscritto che era abituato ad andare al concerto sinfonico, che tuttora va a Trento perché vado a teatro, eccetera, eccetera, è certo che se vado a teatro dei giovani non se ne vedono. Probabilmente attraverso questi strumenti che vedono degli spettacoli e delle cose molto più velocemente comodi a casa senza doversi vestire e andare a teatro. È un mondo che va così, però io non lo vedrei finalmente una cosa positiva. Ragazzi, ho detto una cosa positiva, qui due ciori se mi ascoltano guardate che sto parlando bene dei giovani. Io credo che noi dobbiamo adattarci a un sistema che è un sistema totalmente diverso da quello a cui eravamo abituati a vivere noi. Io dico una cosa, vedete qua, posso rispondere, telefono che scatta e noi l'abbiamo immediatamente chiuso. Avete avuto la prova. Allora, metta che guarda che sia spento realmente perché sennò chi mi occupa con i signori lì. Allora, volevo dire, noi dobbiamo adattarci, le persone, gli anziani hanno, per conto via, hanno una colpa. Che siamo molto forse conservatori, uno le sta, non posso mettere le mani sul petto perché qui c'è, lo vedete? Dove è? è qua. Ecco, qui sulla gola me l'ha messa. E se ho spizzi in gola non posso toccarmi. Torniamo alla tecnologia. Il mondo è cambiato in positivo. Questo, per esempio, qui adesso l'avete avuto la prova, mi ha chiamato un signore. Ho visto chi era, ho levato, lo richiamo io dopo. Ma a questo signore adesso, per esempio, da qua potrei mandargli un sms che sarebbe una lettera attraverso lettere, attraverso l'atomo. A proposito, ho ordinato un libro di cui vi parlerò. La semplicità dell'atomo. L'ho ordinato martedì, arriva dal Cazzaniga perché me l'ha consigliato un amico. Allora, siccome noi crediamo che questi muri siano muri, invece le tubusi, attraverso questi buchi dei muri passano queste onde dell' sms e immediatamente questa lettera, che una volta quella lettera, che te scrivi una lettera, ma dico, ragazzi, vi rendete conto? Se scriveva la lettera, se la rileggeva, se la scriveva a mano e magari con la caraggrafia dei farmacisti, quell'altro non capiva le parole, c'aveva la bolliera o qualche d'un per interpretare se l'era A o l'era B. E si andava, si bucava, poi la partiva la lettera, arrivava dopo due giorni, dopo due giorni quell'altro la leggeva dopo l'interpretazione perché scritta a mano e tornava la lettera, poi non la tornava, si lavava il ciapato, non lavava il ciapato, come mai non mi ha risposto? Finalmente arrivava la risposta, il tutto in cinque, sei giorni. Adesso io faccio un email che sarebbe una lettera per via etere, cioè nell'aria, attraverso l'energia, le onde e dopo pochi secondi, io credo che non faccio neanche a tempo, aver premuto il tasto per inviarla, che quell'altro la lese e mi risponde. Dico, secondo voi questa è una cosa negativa? Sì, forse può essere negativa perché la lettera scritta in quel modo forse impegnava di più, aveva cambiato il sistema di scrittura, è vero, perché una volta probabilmente ci si dilungava di più, quando faccio un sms non vi dico, io questa mattina mi sono lanciato alle nove e mi sono messo la camicia, la camicia celeste, è veramente una bella giornata, è sereno, sono telegrafico, sto bene, ciao, coro, oppure guarda che arrivo stasera a ore 17, cioè c'è un cambiamento fatto nella letteratura, secondo il mio parere, siamo arrivati a un sistema di comunicazione molto più telegrafico, una volta si faceva così con i telegrammi o no? Che erano molto si diceva telegrafico, oggi si scrivono questi messaggi eccetera in maniera molto più concentrata, molto più telegrafica, è un bene, è un male, è un sistema diverso di vita al quale noi anziani, anziani, antichi quasi, a cui siamo stati abituati, credo che però, però, per esempio, vi do un esempio, è venuta in farmacia una signora, lavoro poco, lo sapete tutti, ma la combinazione a quale mi domanda la Pisidia, 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 non mi ricordo, Pisidia, ma si la di Lenerba, dottor, che è via del Brasile, da quelle parti lì, ah si la gara insomma, Pisidia, tac, internet, rom, 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 33 pagine di Pisidia, di tutti i tipi, dove la gay, dove la gay, con la cos'è la server, ho avuto un'informazione, una volta, ma dico una cosa, ammettiamo che non ci sia stato internet, cosa avrei fatto? Avrei dovuto andare a prendere il libro di botanica, avrei dovuto guardarci che era la Pisidia, probabilmente su quelli di la Pisidia era una gara, allora cerca un altro e ci avrei impiegato probabilmente mezz'una, forse non so dire te, forse non l'avrei neanche trovata, probabilmente, con internet, l'ho trovata, mi hanno regalato un disco di Marcello, Marcello, sì, di Marcello, Beniamino Marcello, non mi ricordo, Marcello è un famoso compositore del Veneto, 1650, dico, ho visto chi, dico, so che gay, dico, ma di che epoca è, non mi ricordo, Benedetto Marcello, Benedetto Marcello, tac, ma non ti fai neanche a tempo a sentire la pressione del dito sul tasto, è stupefacente, neanche quando ti fai già la pressione, che hai già scritto? C'è scritto tutto, ma vi rendete conto che prima bisogna andare sulla Trecani o su quell'altra della Uttet e cerca, cerca, Benedetto Marcello, ciapa la pagina, no perché l'era diviso dalla A alla B, dalla B alla Z, quindi ciapa il volume con la B, no mi sono sbagliato perché la B la gacca su quell'altro, tira fuori l'altro, finalmente ti trovi, Benedetto Marcello, e te hai due pagine magari, Benedetto Marcello, qua non hai due pagine ragazzi, che è un'informazione dettagliata per pagine intere, con tutta la documentazione di quel che l'ha scritto, di quel che ha scritto suo nonno, suo zio, sua mamma, se era una famiglia seria o non era una famiglia seria, se la studiano la studiassi al Gavuna Morosa, se che ti riesco, ci siamo capiti, che è su tutto, che è su tutto, allora è un elemento negativo? No, secondo il mio parere no, è un elemento negativo per chi ha la nostra testa, c'è questo da dire, su questo sarei d'accordo, i giovani non partecipano alla vita sociale e siccome siamo in democrazia ci vuole anche della gente che si occupi della cosa pubblica e qui credo che ci sia una grossa carenza, qui sì, perché questi giovani si sono abituati a vivere con se stessi ed avere attraverso questi strumenti che sono per conto mio fantastici, una serie di informazioni, una serie di relazioni, perché si relazionano anche tra di loro, si possono parlare vedendosi, com'è che si chiama quel sistema lì? Com'è lo? Col web? Vedono l'immagine si fa... La video chiamata. La video chiamata, quella video chiamata ha messo che io abbia il figlio a New York, ciao amore, ciao papà come stai? E tu come stai? E tu hai un bel aspetto, sei bello abbronzato, sei soltanto, ma lei ha detto, ah che bello, ma qui un brutto tempo te vedessi queste torri che a fare, che è un casino della malavita, ostante... E io in un attimo parlo con mio figlio, da New York! E lo vedo! E lo vedo! Anche come la verde della bocca, al limite che sarà una piccola, com'è che posso dire, non un'uguaglianza labiale, ecco ci può essere quello, ma anche quella alle volte è abbastanza... Allora io mi domando, io da Malè parla con Maffiol ad Arco, ma dico, ragazzi vedete, allora questo può essere forse negativo, ostia sì l'ho capito, microfono, microfono, microfono... Vuol dire può essere negativo per quelle che sono le relazioni pubbliche, tra il parlarsi, per esempio il sottoscritto che lei, il peso della betonega, mi quando esco da casa, se no parlo che coi sassi, è allora, la disperazione di mia moglie, sì sì perché mia moglie le dava al del sole, piuttosto chiusi, vive se parlo anche coi sassi, evidentemente, evidentemente per uno che ha il carattere come ho io, forse con i giovani mi troverei, penso, finora non mi è capitato, ma comunque di gente che vive in un mondo molto più chiuso, il fatto che possano rimanere a casa, stando a casa, vedere il mondo, relazionarsi con tutti, stando a casa, probabilmente non hanno la percezione del viso degli altri, ma poi lo vede anche, non so, non so dirvi, l'odore, non so, qualche cosa di particolare probabilmente manca. E le relazioni pubbliche sono importanti perché i sindaci, poi non mi hanno avanti sempre col Betta, no? Bisogna che sia qualche giovane che salta fuori e che dice, senti Betta, bravo ingegnere, ma non te fai niente, quindi non c'è. Io non saprei oggi, ditemi, di un giovane al di sotto dei 30 anni come poteva esserci un tempo che fa politica. C'è? Io mi ricordo che che era il mio amato Veronesi, ma che era il Morgan, che era l'architetto Belotti, che era il Morandi, c'era il Pellegrini, che adesso tutti da sinistra, ma sistemati, per l'amor di Dio. Quell'altro, come si chiama, il Tonelli, tutti giovani. C'era un ambiente giovane, politicamente preparato, ma si poteva discutere. Oggi non lo so, c'è qualcosa che mi sfugge, però io non sono assolutamente contrario alla gioventù e sono un sostenitore che bisogna morire, perché finché non si more non si cambia le robe. Vi do un'ultima notizia, però poi, allora, l'altro giorno, dal Pierino gelatiere, si parlava di questa cosa dell'antifascismo, che insomma è una buffonata, eccetera, 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 e che questo discorso dell'antifascismo dura fino a quando, fino a quando, vivono certe persone, tra cui è stato chiamato in ballo, come si chiama lì, l'avvocato. Aiutatemi un attimo Scusa Carlo, questo è l'antifascismo, facciamo un'altra cosa. No, no, ma volevo dire solamente un particolare, sta fermo là, posso continuare? Mi interrompe, ho senso più bello, vedete? Allora è che ho per fortuna la consecuzio temporo che mi funziona. Allora, si parla di questo antifascismo, eccetera, e dice uno che fino a quando non scompare questi balardini, tutte queste persone di una certa età, perché ha detto, dottor, e si rivolge a me, e capis ben dottor, che chiede la gente del 1927, che ancora, in giro, che il saria ora e tempo il dischi fu sottoterra. Un momento, giovanotto, sa di che anno sono io, non so mio, sono del 1927, e non vi darò questa soddisfazione. Salve!